Io voto per Renato a Corinti perché penso che Renato possa liberare questa città. Possa liberarla dai potentati, dalle false famiglie, dalla mafia latente e dalla mafia manifesta. Dal bigottismo, dall'ignoranza, dall'accidia dell'amministrazione. Penso che Renato possa liberare Messina dagli imbonitori, dagli imbroglioni, dai saltafossi e soprattutto dai suoi falsi padroni, quelli che non l'hanno mai amata. E voto per Renato a Corinti perché so che a queste richieste, a queste domande, Renato non risponderebbe mai, non posso. Viva Renato a Corinti, viva Messina e viva la Sicilia. Ciao a tutti.